Prova, sì? Nome, cognome, età? Elena Di Girolamo, 13 anni Fatti una domanda e datti una risposta Hai vinto? Sì A buon intenditore? Non lo so Anno nuovo? Vita nuova A luglio? Ubi Major? Ma io non le so queste cose Dai, non è giusto Ok, iniziamo A quanti anni hai iniziato a giocare a golf? Nove Perché giochi a golf? Perché è uno sport meraviglioso E è una mia grande passione Da quando ho nove anni Ci giocherò per sempre Handicap aggiornato? 1,5 Dove giochi? Il tuo circolo? Ambrosiano Ruolo nella tua squadra? Scherzo Quanto ti alleni? Cinque volte a settimana Chi è il tuo coach? Per il lungo Stefano Soffietti Per il corto Roberto Zappa Fai altri sport? No Pregi e difetti del tuo carattere? Pregi, quando voglio sono molto determinata Difetti sono un po' cocciuta e testarda Cosa pensa la gente del tuo swing? Non lo so Chiedi, forse mi giro bene Ecco Fammelo vedere da seduta Non mi giro però così Quanto fai col ferro 7? 130 Col dry? Non lo so 200 con il rotolo, sì dai Sei brava a pattare? Me la cavo Rischi o meglio fare il layup? Dipende dall'adrenalina E se sto giocando bene o male Le tue vittorie in carriera? L'importante è il campionato Pulcini Poi vabbè ho vinto altre gare Però quasi insignificanti Come giocherai tra 5 anni? Molto bene Cosa vincerai tra 10 anni? Spero un torneo importante Nel PGA o qualcosa del genere Il golf è figo Il tuo idolo sportivo? Ce ne sono tanti però Rory McIlroy Principale Bene facciamo una pausa Riesci a toccarti l'orecchio sinistro con la mano sinistra? Non era difficile E a fare così? Non l'ho mai fatto Aspetta eh Com'era? Aspetta La scuola come va? Bene bene, sì Ho fatto gli esami quest'anno La materia che odi? Parte Con chi vorresti andare in vacanza quest'anno? E dove? Con la mia famiglia Alle Hawaii Sei felice? Sì Come ti chiami su Facebook? Non ho Facebook Instagram? Eledigi Rolamo Su Snapchat? Elena Digi Su Swiller? Non sapevo neanche la desistenza Di che segno sei? Leone E lui? Non c'è nessun lui Abbiamo finito Adesso sappiamo tutto di te In dieci secondi guardando in camera Convincimi tua cugina a giocare a golf Vai Cuginetta cara Devi giocare a golf Perché il golf è uno sport meraviglioso E alcune emozioni e sensazioni Te le può dare solo questo sport Codice fiscale a memoria? Non ne ho idea